Vi chiediamo l'applauso per la numero 8, Lucia, che interpreta Malefica! Ascoltate bene tutti voi, la principessa crescerà in vero, in grazie e bellezza. Chiunque farà la sua conoscenza alla mera è un bellissimo dono. Ma, prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo compleanno, e la sfuggerà il dito con la punta del fuso del nel coraglio e cadrà in un giorno simile alla morte. Un giorno dal quale ella mai si desterà. Tu che supplichi? Falla ancora! Sta bene! La principessa sarà destrata dal suo sonno di morte, solo dal bacio del vero amore. Il maleficio durerà fino alla fine dei tempi e il suo potere terreno riuscirà a toglierlo! A presto sia! È un giorno di ragazza! A presto sia! Grazie! Grazie a tutti.